Per cogliere anche i minimi dettagli si può scegliere di farsi accompagnare da una guida della natura. Siamo andati con Nicole, una delle guide di Arpi, a vedere cosa prevede il programma in una serata invernale qualunque lungo il tracciato Bellevue, che raggiunge i 2010 metri di quota. Allora, adesso partiamo, ci dirigiamo verso il Belvedere, che è un balcone panoramico sul Monte Bianco, non so cosa vedremo stasera, comunque il tempo è molto bello anche per fare le escursioni con le ciaspole, anche sotto l'anno di fatta, è suggestivo, un po' diverso. Sono anni che vengo in Valle d'Aosta, non ho mai provato un'esperienza del genere di notte sul Colle San Carlo e vedere Courmayeur dal lato è stato magnifico, magnifico. Camminare nella neve con questa ciaspola è suggestivissimo, lo consiglio a tutti. La caduta? Stupenda, tutto intero, tutto intero. Vengo da Buenos Aires, mi hanno portato una volta, era d'estate, e ho voluto conoscere qua d'inverno, e mi piace tantissimo. And my dear, we're still good by you, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Ispirate tutti! Perfetto, bellissimo, è uno spettacolo, uno che non si tuffa nella neve è così, è come andare al mare e non fare il bagno. La cosa più bella del mondo! La frontale! La frontale! La frontale! Grazie a tutti.